ebbene su richiesta del nostro amico carlo che va scritto ma facciamo qualcosa sul maestro sarebbe bella una recensione qualcosa del maestro ho pensato che fare una recensione di un brano dibattiato non avesse moltissimo senso perché comunque c'è cosa vuoi fare a recensire però ho pensato che c'è un brano in particolare il primo che mi è venuto in mente che si potrebbe si potrebbe utilizzare per fare una cosa interessante cioè cercare di capire i sottotemi o quando esistono in questo caso vedremo che esistono delle narrative che sono ispirate chiaramente alla realtà come in questo caso sono felicissimo di andare a parlare di prospettiva neschi e quindi andremo a vedere in dettaglio per l'occasione ho messo qua dietro questo bellissimo album la voce del padrone e l'edizione per il quarantesimo anniversario che è stupenda perché è dorata sia sia esternamente che poi proprio il supporto vinile questo brano fa parte dell'album patriots del 1980 pubblicato emi e al suo interno ci sono canzoni clamorose come a petrus to arms giusto per dirne una o venezia istambul arabian song e la stessa prospettiva neschi ora prospettiva neschi la prima cosa interessante da dire è che la prospettiva signifini in russo sarebbe il boulevard il corso il viale quindi una strada molto importante rispetto alle altre in questo caso parliamo della strada più importante di pietro burco l'album dura meno di 30 minuti ed è scritto dallo stesso franco battiato insieme a giusto pio il quale ovviamente le collaborazioni sono state numerose numerosissime andiamo quindi a vedere il testo un vento a 30 gradi sotto zero il contrastato sulle piazze vuote e contro i campanili a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari già voglio dire in quattro parole ci ha catapultati lì che poi lì sarebbe qui ho segnalato nel testo alcune alcune parole chiavi che sono quelle chiave che sono quelle che fanno capire che il testo effettivamente ha dei riferimenti a storie a una storia realmente accaduta innanzitutto ho sottolineato guardie rosse l'ho sottolineato per un motivo questo testo non sappiamo esattamente a che non riusciamo precisamente a dire di che cosa parli nel senso qual è il punto di vista anche temporale del di colui che guarda io credo che sia una sorta di viaggio immaginario accaduto subito dopo la vicenda di cui andremo a parlare quindi sia una fotografia della russia in quel particolare momento in quel particolare frangente ma fatta anni dopo comunque sia perché altrimenti ci sarebbero delle incongruenze per esempio le guardie rosse divennero famose durante la rivoluzione d'ottobre e non questo nome non esisteva prima e la vicenda è ambientata in un periodo precedente al 1917 e allora ripete poi la stessa frase accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne poi guardavamo con la fa con le facce assenti la grazia naturale di nijinsky fermiamoci un secondo nijinsky e questo bel signorino qua sopra e chi era nijinsky nijinsky era un ballerino di origine polacca che in realtà la sua famiglia poi emigrò emigrò a kiev quindi in ucraina dopo alla fine fu comunque lui naturalizzato russo anche se si sentiva polacco la cosa curiosa è che lui non imparò mai bene il polacco però si sentiva nazionalista nijinsky fu un personaggio incredibile perché fu ballerino coreografo ma fu soprattutto un rivoluzionario fu un rivoluzionario nella sua arte perché creò delle pose plastiche che prima non esistevano perché utilizzava gli arti e i movimenti in una maniera diversa io poi non sono un esperto di balletti e quindi non diciamo non ne so proprio niente però so quello che ci racconta la sua biografia o meglio mi interessai a suo tempo perché notai che questa canzone aveva dei riferimenti precisi allora la frase successiva è e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi il grande franco battiato insieme al buon gistopio la sparano lì come fosse niente ma in realtà quasi racchiude l'intera vicenda di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e chi era il suo impresario il suo impresario era il signor giagilev non ho idea di come si pronuncia il russo però da da un po e lo chiameremo giagilev e chi era questo giagilev era un aristocratico ovviamente molto in vista nei salotti una persona particolarmente ricca e potente che letteralmente si innamorò non solo artisticamente ma anche proprio si innamorò proprio di nicinski e infatti i due pare fossero si sarebbero poi legati da lì a poco non solo artisticamente artisticamente erano diventati un binomio indissolubile tant'è vero che immediatamente giagilev o come si pronuncia che si interessava a particolar modo di fare di creare un movimento di esportazione delle delle arti russe nell'europa occidentale in particolare in francia tant'è vero che portò nicinski proprio a parigi nicinski era già considerato un fenomeno tant'è vero che a 18 anni aveva aveva fatto praticamente il suo esordio come protagonista tra l'altro insieme alla sorella e lo fece nel teatro marinski che è uno dei più importanti di tutta la russia quindi adesso la situazione qual è nicinski conosce giagilev giagilev lo supporta in tutto e per tutto i due sono coppia artistica e coppia di fatto e iniziano ad andare in giro per l'europa si parte da parigi ma poi ne fanno comunque tante e iniziano a riscuotere grande successo andiamo avanti nella canzone l'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicino alle finestre un giorno sulla prospettiva neschi per caso vi incontrai igor stravinsky e fermi tutti igor stravischi chiaramente conosciuto ai più come fenomenale compositore direttore d'orchestra anche lui un innovatore incredibile perché è importante in questa vicenda perché stravischi che cosa fa conosce giagilev pure lui e giagilev lo mette nella compagnia quindi l'innovazione di stravischi insieme alla straordinaria diciamo anche ribellione artistica del nostro nizinski fa sì che tutto questo esplode in un movimento enorme infatti quando capisce questo potenziale giagilev che era ovviamente una persona che aveva buon occhio per queste cose oltre a essere un impresario di enorme successo formò una compagnia vera e propria che era chiamata i balletti russi i balletti russi avevo preso un appunto divennero una compagnia di artisti in senso ampio includendo addirittura picasso nel senso che fu coinvolto in alcune coreografie era diventato un vero e proprio movimento culturale importante molto importante cambiarono praticamente la storia del balletto moderno quando composero i tre balletti i famosi tre balletti andiamo avanti con la canzone quindi vi incontrai per caso igor stravischi e gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di esenstein sulla rivoluzione ora anche esenstein è per un motivo viene viene messo qua viene evidenziato esenstein esenstein non ho idea di come si pronuncia oltre a essere considerato uno dei capostipidi del cinema ad aver inventato tecniche innovative ad essere diventa ad essere stato un grande regista ma faceva praticamente tutto lui oltre a fare un sacco di film comunque tutti i suoi film erano a scopo a sfondo sociale c'era sempre questo questo scopo educativo questa analisi questa fotografia sociale infatti utilizzava masse di persone movimenti di persone non utilizzava mai degli attori professionisti e anche quello che tra le altre cose è famoso per aver scritto e diretto la corazzata potionkin sì proprio quella corazzata potionkin allora per me la corazzata potionkin è una cagata pazzesca e gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di esenstein sulla rivoluzione e studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere e il mio maestro mi insegnò come difficile trovare l'alba dentro all'imbrunire come se questa canzone non fosse già meravigliosa per mille motivi questo chiudono una canzone così e il mio maestro mi insegnò come difficile trovare l'alba dentro all'imbrunire cos'altro dovremmo aggiungere e questa era prospettiva Neschi in un'analisi magari un po' meno comune del solito spero che vi sia piaciuta questo pezzo è un capolavoro non c'è altro da aggiungere ciao vi siete affezionati ai nostri personaggi vorreste saperne di più d'altra parte è logico volerne sapere di più è ovvio questi personaggi incredibili tutti tutta questa questa crew di persone che improvvisamente poi diventano famose nel loro creano delle cose incredibili tutte queste novità questa importanza storica artistica queste personalità meravigliose questi rapporti di amore tradimenti raggiri come andrà a finire come potrà andare a finire una storia così così bella così interessante così incredibile male malissimo quasi sempre Neschi parte in tournée e va in Sud America in Sud America questa volta con lui non c'è Djadjilev perché Djadjilev non voleva fare dei viaggi aveva paura di fare dei viaggi così lunghi e quindi lui ci va senza e già che si trova lì che cosa fa? trova una e si sposa sposa Romola Depolsky a Buenos Aires Romola Depolsky che era di sangue nobile di origine una principessa di origine ungherese e figlia ovviamente della famiglia che oltre a titolo nobiliare era molto molto ricca al suo ritorno Djadjilev che cosa fa? chiaramente lo rispetta come artista e anche se magari dispiaciuto per il fatto che la loro relazione si è bruscamente interrotta? no, lo licenze a quel punto lui spinto dalla novella sposa piano piano si allontana dal mondo del teatro dal mondo del balletto e si avvicina al nascente mondo del cabaret che però non ha il suo linguaggio e quindi colleziona tutta una serie di sfortunati eventi da qui tutto bene manie di persecuzione esaurimento nervoso diagnosi di schizofrenia morte a 61 anni e Djadjilev, che fine ha fatto Djadjilev? com'è andata? colleziona avventure amorose e relazioni con vari ballerini dando ogni volta chiaramente scandalo assiste all'inizio del declino dei balletti russi muore a 57 anni e Eisenstein, il genio Eisenstein quello che prima dei 30 anni aveva già collezionato tre capolavori mondiali ancora riconosciuti oggi come capolavori che fine ha fatto Eisenstein viene notato e diventa talmente famoso talmente importante da essere chiamato Hollywood con dei contratti con delle cifre spaventose per almeno due film almeno inizialmente dopodiché per divergenze artistiche i contratti vengono cancellati quindi lui si ritrova senza lavoro e senza fondi non si perde d'animo e allora va in Messico dove gira un altro film sempre però al soldo degli americani solo che a un certo punto il signor Stalin si ricorda di lui e gli dice guarda che devi tornare a casa non si sa bene a fare che cosa lui a casa ci torna salutando il produttore americano dicendogli non ti preoccupare mandami tutto il materiale che abbiamo girato che io mi occuperò del montaggio l'americano gli dice sì sì tranquillo e non gli manda assolutamente niente fa montare il film a un altro gli cambia anche il titolo e lo proietta ma Eisenstein finalmente tornato in patria o comunque nel mondo in cui gli apparteneva sarà riconosciuto come quel genio che era no? no infatti un po' la sua personalità il suo carattere rivoluzionario e in più il fatto che fosse stato per diverso tempo in occidente iniziano ad aumentare i sospetti su di lui e sul tradimento nei confronti degli ideali politici russi Stalin gli dà addirittura un premio il premio Stalin e quindi dici tutto bene no perché quando gira Ivan Terribile parte terza a Stalin non piace ci sono delle cose che non convincono di conseguenza tutto a posto le copie vengono sequestrate viene impedita la distribuzione vengono distrutti i nastri la logica conseguenza è attacco cardiaco e morte a 50 anni quindi anche Igor Stravinsky in qualche maniera viene coinvolto da questo ciclo negativo che ruota intorno orbita intorno ai belletti rossi no perché fondamentalmente se ne fotte inizia a fare viaggi in giro per il pianeta colleziona successi più o meno grandi ma lui non gli interessa perché tanto va in giro ha abbastanza ricchezza ha un nome importante e quindi può vivere tranquillo e beato e infatti lo fa tanto è vero che muore a poco prima dei 90 anni e Romola Depulski Romola Depulski che esce dal nulla cerca di fare in modo di capitare sui vaporetti insieme al Bonnizischi cerca di sedurlo fin dall'inizio addirittura alla fine diventerà pure ballerina orchestra di piani diabolici per conoscerlo sedurlo e sposarlo lei che vita infame avrà mai avuto vive degli agi familiari di qualche piccolo successo personale e dall'anno in cui muore il 1950 il nostro Bonnizischi vive abbastanza bene gli alti e bassi economici della coppia ha anche i piccoli fallimenti nel cabaret e anche la malattia di Nizischi perché fondamentalmente a lei che gliene frega lei è sempre di una famiglia ricca e quindi non gli interessa e in più dal momento in cui muore il Bonnizischi lei inizia a pubblicare diari inizia a pubblicare pensieri opere e quindi fondamentalmente da lì in poi si arricchirà anche sulla sua morte e lei infatti quanto vive? esattamente 89 anni e passa se io penso che questi sono i presupposti che stanno all'interno e orientano le scelte e le parole di una canzone di tre minuti forse di testo e settimana scorsa stavo facendo le video recensioni di testi di testi grazie a tutti